Il post partita di Gilles La Samp sta già trattando e ha già trattato diverse cessioni e diversi acquisti Quindi ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato di Lammers, di Nuitic, di Ferrari e di Caputo Oggi invece andiamo a parlare di quello che sta diventando un calciomercato in cui la Samp si sta muovendo sia in uscita che in entrata Quindi andiamo a vedere cosa succede, un saluto a tutti gli amici del corner Sampdoriano Come al solito, pollice nei su, qualora lo vogliate iscrivetevi al canale live ogni mercoledì sera su Twitch Questa settimana andremo in onda il giovedì per fare anche un po' il post partita per quanto riguarda la gara in Coppa Italia con la Fiorentina Quindi iniziamo subito con il video a premessa Alla fine faremo una top 11, quelli i titolari, mettiamo così Quindi quello che lo vogliate qua sotto nei commenti potete scrivere la vostra Detto questo, andiamo, andiamo e iniziamo con le cessioni Bisogna parlare inevitabilmente di quello che è l'addio di Bartosz Berezinski Sei anni in cui ha espresso comunque nel complesso un buon calcio È vero, ha avuto dei periodi bui, abbastanza bui Un giocatore abbastanza discontinuo, specialmente nell'ultima parte della sua avventura della Sampdoriano Però nel complesso devo dire che è stato un giocatore molto importante Sei anni, capitano futuro, lo chiamavamo Quindi ci lascia un pochino con la mano in bocca possiamo dirlo Per quanto riguarda il suo ricambio che è Zanoli, un ragazzo giovane Che abbiamo visto in Sampnapoli, pochissimi minuti Anche un passaggino sbagliato non va bene Però no, diamogli assolutamente tempo Il ragazzo, ho parlato con un amico che ti fa Napoli Lui ha detto che stravedeva per lui Speriamo bene Speriamo bene perché comunque è un giocatore che potrebbe dare assolutamente il suo contributo Ed è giovane E per quanto riguarda la Samp è sempre una notizia che uno sia giovane Per quanto riguarda il mercato in entrata C'è una brava notizia Perché? Perché la Samp si sta muovendo Ed è una cosa che non siamo abituati a vedere Specialmente per un semplice motivo La Samp si sta muovendo con coerenza Ed è assurdo Perché? Hai preso un uintic con un'operazione in cui hai dato via Ferrari Al bacio Perché hai tolto uno che se ne va con la stampelle ancora A Cremona ha fatto 5 minuti e subito fuori Quindi chapeau Cioè hai fatto una roba bellissima Quindi va benissimo E in questo caso io mi sento di appoggiare la società Perché con le difficoltà economiche comunque A livello di mercato hai fatto abbastanza bene Adesso Mentre Nei sei mesi precedenti Hai costruito una squadra Completamente per il 4-3-1-2 di Giampaolo E alla fine giocatori come Villar Devono andare via Non sto dicendo che è colpa del sistema Se Villar gioca male Anzi È un giocatore che a me non è piaciuto per niente Dovrebbe tornare alla Roma Per poi riandare via Verso le sirene spagnole Verso il Getafe Dispiace perché è comunque un giocatore Con una buona tecnica Però a livello di agonismo Se abbiamo visto ultimamente Una Samp in forma Una Samp grintosa Ecco Forse è uno degli unici che abbiamo visto Veramente ancora come un pesce fuori d'acqua Lui E questo dispiace molto Mercato in entrata C'è Arrui Che è questo centrocampista Del Sassuolo Che ha giocato Leggo qui Nello Sparta Rotterdam Nello Sparta Comunque Penso Nel nord Europa È un giocatore con buoni numeri Anche a Reggio Emilia Non sta facendo malissimo Può dare il suo contributo Assolutamente È un giocatore orlandese A 24 anni Con calma Aspettiamo a dare giudizi Speriamo bene Perché anche lui È un giocatore Che alla Samp potrebbe servire Specialmente In un reparto come il centrocampo Che adesso Ha vacillato Ultimamente no Perché abbiamo visto Un Viera in forma Un rinconca sempre in generale Anche se ogni tanto perde la testa Diciamo che Deve e può dare il suo contributo Qualora dovesse arrivare Se si parla di un'operazione Di un prestito Con obbligo di riscatto In caso di salvezza Della Samp Quindi Con calma Andiamo a vedere E Esclusiva di Sport Italia Prendiamo tutto con le pinze Potrebbe E dovrebbe arrivare Il Same O sul Same Chiamatelo come volete È un giocatore Che ha giocato Nello Young Boys E in Italia Al Venezia È lui È quello che doveva arrivare Un po' di anni fa E noi abbiamo preferito Supriaga Un giocatore Magnifico Che infatti Si è andato via Non subito Non ha neanche giocato Che Forse ha fatto una partita In cui ha fatto vedere Le sue prodezze Lasciamo perdere E Parlavamo di Il Same Che è questo giocatore Che assolutamente Secondo me Riuscirà dal suo contributo Ha dei numeri Folli In In Svizzera In Austria Dove gioca Non mi interessa In Italia Ha fatto male È vero Però veniva Da una rottura Del tendine d'Achille Che è sempre Un'infortuna Un po' così Detto questo Non sto dicendo Che è un fenomeno Dico che è un buon giocatore Che potrebbe fare Il caso della Samp Vai a rinforzare Un reparto Come l'attacco Specialmente Dopo la rottura Del crociato di Quagliarella Che è una perdita Indelebile Secondo me Di questa Samp Però Hai preso l'Hammers Che è un giocatore Che dobbiamo ancora vedere bene Adesso vai a prendere lui Qualora dovesse essere vero Vuol dire che La società Si sta comportando Abbastanza bene Speriamo che questo giocatore Si confermi Quello che è Nel suo campionato Perché Si parla di 10, 20 Anche 30 gol Conditi anche da 5, 10 assist Quindi È da un po' di anni Che ha questi numeri A calcio Si sta a giocare Questo È senza dubbio Però Il campionato italiano È sempre un po' così Specialmente per i nuovi arrivati Quindi Tutto con le pinze Assolutamente Ecco Andiamo a vedere Adesso Un po' la formazione Questi sono i rumors Probabilmente Non usciranno altri Nel corso Del Dei prossimi giorni Noi comunque In live Cercheremo sempre Di fare Il punto della situazione Anche perché È uscita una notizia Di un possibile Nuovo Candidato A comprare la Sampdoria Che Amico di Garrone Sì Io Non mi ricordo Neanche cose Arquata Non voglio neanche sapere Non voglio neanche sapere Di cessione Adesso voglio solamente Pensare al campo E salvarmi in campo Poi Società Si vedrà Detto questo Collei dovrebbe rimanere Perché comunque Ha smaltito Ha chiarito Non si sa Saberi Resta in incognita Però Andremo a vedere Adesso vorrei Concentrarmi Su questo giochino Che faremo In porto Ovviamente Audero Schieriamo Questo 3-4-1-2 Che abbiamo visto spesso Ecco E qui Dalla difesa Iniziamo a vedere Quello che manca Che è un centrale Perché Hai Nuntic Che va benissimo Hai Amione Che a me va bene Hai Murillo No Abbiamo visto Murru Braccetto di sinistra Che Della serie Sparatemi Quindi Murru Via Subito Murillo Non ti può garantire niente Quindi Bisogna assolutamente Comprare qualcuno dietro E in fretta L'urgenza è dietro Non al centrocampo Secondo me In questo momento Quindi Nuntic Amione E adesso mettiamo Murillo Ma Vorrei mettere Un difensore nuovo Se si può Sabdoria Se si può Al centrocampo Non puoi inventarti Tantissime cose Adesso c'è Leris Che è un giocatore In crescita Pian piano stiamo vedendo Un buon giocatore I due centrali Puoi mettere Viera Che comunque Anche lui Nelle ultime due partite A livello tattico Ha fatto delle Buone partite Specialmente Reggio Emilia E Rincon Aspettando Il ritorno Di Winks Poi Paoletti Che è un nuovo giovane Iepes Da non trascurare Perché ha molta qualità Lo stesso Sabiri Può farlo Quindi Hai Molte 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 Possibilità Per quanto riguarda Il centro campo Dietro mi sono dimenticato Di Collei Ma Ovviamente Bisogna sapere Un po' Questa polmonite Questa vuole andare via Per ora Resta la Samp Però Non me la sento Mi metterò Nel top 11 Perché sono sicuro Che tra un mese Riguarderò questo video E Collei sarà via Abbiamo parlato Di centro campo Ovviamente A sinistra Ugello Che è un giocatore Che pian piano Stai ritrovando Il ritmo giusto Ancora Un po' Timidino Ogni tanto Però È un giocatore Che può far bene E in attacco Eh Eh Qui la situa Inizia un po' a cambiare Perché Perché Come trequartista Quindi giocatori Io telepunte Puoi avere Djuricic Puoi avere Sabiri Da lì Quei due Non li toghi E poi avresti Gabbiadini Lammers Questi due sono sicuri Montevago Come Opzione E poi Il Samè De Luca Se dovessero entrare Quindi Qualora Wings De Luca Dovessero entrare Al 100% La Samp Secondo me È messa abbastanza bene E Dico che Ovviamente Il cambiamento Sarà in discesa Ci salveremo Senza problemi Assolutamente No Anzi Sarà Un'impresa A salvarsi Però Voglio dire Potresti iniziare a vedere Un cambio A livello Di testa L'abbiamo visto E sono contento di questo A livello Tecnico Manca veramente tanto Con L'inserimento Di Henry Che è un mediano Quindi possiamo Metterlo di nuovo Centro campo Qualcosina Potresti iniziare a vedere Il Samè È un po' Leggevo Un po' Uno cacca Se vogliamo fare Questo paragone E a me andrebbe benissimo Perché È un po' Quello che manca Da anni Alla Samp Una punta di peso L'Uera De Luca Che si è fatto male È il segno Del destino Quindi Davvero Qualora De Luca E Wings Vessero In entrale Questa Samp Sarebbe veramente Molto Molto carina Poi Parlando Delle possibili Opzioni A destra Ovviamente C'è Zanoli A centrocampo E la vendetta In età Con la dette E in difesa Abbiamo detto Tutto Mi sembra Se vi sono dimenticato Qualcosa Ovviamente Scrivetelo Qua sotto Nei commenti Cercheremo Di parlarne In live Giovedì sera Sulla piattaforma Viola Corner Trattino Basso Samp Doriano Su Instagram Fateci sapere Nei commenti Iscrivetevi Vi ringraziamo Per il raggiungimento Dei 2000 iscritti Traguardo Magnifico Da Mattia è tutto Da Corner è tutto Sempre Forza Samp